Dopo aver incassato già un movimento long sull'euro ho deciso di fare un nuovo ingresso long sullo stesso mercato, quindi in questo video andremo a vedere come e perché sono entrato ancora una volta long sull'euro dollaro e come andrò eventualmente a gestire questa posizione. Ben ritrovato in questo nuovo video, se non mi conosci sono Damiano Zito, Price Action Trader indipendente, membro e collaboratore attivo di questa community, quella che vedi è Professioni Trader, una rubrica dove settimanalmente racconto il mio diario di trading con un conto reale da 10.000 euro che ho aperto come fase esperienziale del percorso di accademia che ho intrapreso all'interno di Airforex. Bene, come dicevo ho un nuovo posizionamento long sul mercato dell'euro, quindi la posizione è attualmente attiva, mi trovo poco vicino, poco sopra il prezzo di entrata, quindi 1.086 e posizione che in questo momento diciamo uno stop a 1.071. Ho aggiornato chiaramente il mio diario di trading, eccolo qui, che dopo appunto aver visto una posizione long a metà maggio, questa posizione che avevo aperto il 13 maggio e che si è chiusa il 15 di maggio, adesso ho deciso quindi nella giornata di ieri di fare un ingresso ulteriore al livello di 1.086, quindi il 27 maggio, cioè nella giornata di ieri, oggi mentre registro il martedì, 28 maggio, ho deciso di fare questo nuovo ingresso a 1.086, investendo i miei 250 euro sul livello di 1.0710. Come potete vedere questo tipo di rischio mi porta poi a, come dire, a una size di 1.81 che equivale a circa 16.600 euro, quindi un CFD mini virgola 81 precisamente. Molto bene, quindi questa è la posizione sul diario appena registrata, chiaramente non ci sono altri dati compilati in questo momento perché la posizione non ha avuto ulteriori svolgimenti, sono entrato ieri e quindi adesso la andiamo a vedere un po' sul grafico. Allora, quindi come dicevo io sono entrato sul, quindi andiamo a vedere graficamente il prezzo di entrate, 1.086, quindi un prezzo che ho scelto diciamo come livello tondo dopo la rottura, quindi di questo setup che adesso andiamo a discutere, e dove mi sono posizionato con lo stop, quindi come sto gestendo questo rischio. Allora, dal punto di vista monetario io ho investito i miei 250 euro sempre con uno stop ampio che diciamo è il modo col quale lavoriamo in Airforex e ho deciso di mettermi praticamente dietro questo minimo, quindi il minimo dell'ultimo setup long che avevo già tradato, che ho già tradato praticamente a metà maggio, che dopo aver tradato più o meno da questi livelli ho deciso di portare a casa su questi massimi. Che cosa è successo successivamente? Quindi ho deciso di incassare questo movimento, ma il mio piano operativo non è cambiato nelle settimane successive ed è rimasto esclusivamente long. Cioè nonostante io avessi incassato chiaramente su questo livello l'idea che una volta arrivati su queste zone, forse un po' più in basso, non proprio qui in alto, il fatto che potesse ritracciare era molto probabile e quindi ho deciso quindi di portare a casa il movimento e attendere un'ulteriore fase di ritracciamento o consolidamento dopo un buon movimento long e quindi eventualmente rientrare sul mercato. Che cosa intendo dire? Lo spieghiamo meglio un po' sul settimanale, anche perché questa è un po' la base del, molto semplice da spiegare, la base del trading, almeno come lo approccio io, come lo facciamo anche noi in Airforex, cioè dopo un movimento è molto probabile che ci sia una fase di ritracciamento e consolidamento, quindi se poi in quella fase di ritracciamento e consolidamento si verifica un pattern del nostro piano è molto facile poi valutare l'ingresso in quella situazione. Quindi movimento, ritracciamento e o consolidamento, allora a quel punto è più facile, diciamo, che si crei una situazione di entrata che possiamo andare a valutare. Nel caso specifico, quindi il mio piano, dopo venivamo sempre da questo setup short che ho discusso in due video precedenti, quindi qualora non l'avesse visto vi consiglio di andare a vedere insomma i video precedenti per capire un po' l'evoluzione che c'è stata su questo mercato, perché io inizialmente effettivamente ero short sull'euro dollaro, ho cambiato idea nel momento in cui il mercato effettivamente con la price action ha creato qualcosa di, informativamente parlando, di diverso e quindi anche di dinamica di prezzo diversa. Fondamentalmente dopo questo, quindi aumento di vola, abbassamento di vola, il mercato anziché dare, come dire, continuazione al ribasso di quella che era stata poi una price action short, in realtà ha aumentato la vola al rialzo. Quindi nel momento in cui è aumentata la volatilità al rialzo e si è quindi ridotta, quindi all'interno di questa barra setup, la volatilità, poi c'è stato un ulteriore aumento di volatilità e io qui ho tradato al rialzo il mercato, quindi ho incassato poi questo movimento quando siamo arrivati appunto su queste zone. Perché? Perché chiaramente il mercato si muove spesso in questo modo, quindi volatilità, ritracciamento e poi eventualmente continuazione di quella che era stata la forza di, in questo caso, di rialzo. Quindi nel momento in cui c'è stato un ulteriore aumento di volatilità ho deciso di incassare. La settimana successiva, quindi la settimana questa del 20 maggio, il mio piano è rimasto long, quindi nonostante io abbia preso profitto su questi livelli, comunque non ho inserito un piano anche short, quindi un long short per andare a tradare eventualmente una dinamica di possibile ritracciamento nel daily, no? Quindi andiamo a vedere, per esempio io ho preso appunto profitto qui, ho atteso. Il mercato tra l'altro aveva chiuso il 17 maggio con questa tail bar che faceva questo minimo, quindi diciamo che la zona che io stavo monitorando era proprio 1,084, quindi questo livello di minimo, eccolo qui, era il livello che fondamentalmente avevo come piano, cioè se dovesse ritracciare, cioè fallire questa pinbar e recuperarlo avrei valutato, quindi creare un setup operativo avrei valutato, un ulteriore ingresso long. Che cosa è successo? Che il mercato dopo questo, quindi questo movimento in volatilità, quindi c'era stato già qui, quindi consolidamento, setup operativo, long, quindi volatilità, consolidamento, trigger e movimento long, in questo caso c'è stato movimento long, qui c'è stato un lieve ritracciamento, se vogliamo, consolidamento, ma attaccato sui massimi, questa pinna attaccata sui massimi, non era, diciamo, qualitativamente parlando un buon trigger, quindi il mercato che fa, consolida un giorno, poi va giù, quindi rompe, poi recupera, recupera praticamente nella giornata di venerdì, sì, venerdì 24 maggio, con questa candela inside piena. Quindi che cosa succede? Il settimanale si chiude in questo modo. Quindi anche qui abbiamo, appunto, dopo l'aumento di volatilità, una riduzione di volatilità con una inside, questa candela, diciamo, col corpo nero, ribassista, ma di, appunto, riduzione di volatilità con tail, che dopo un aumento di volatilità, effettivamente, è un classico pattern, una situazione dei mercati, che dopo volatilità e riduzione di volatilità, può portare, effettivamente, a un nuovo aumento di vola, e quindi un long, in questo caso, perché il movimento che sta, effettivamente, in questo caso, dominando nell'ultimo periodo, è un long, quindi il trend è più rialzista nel breve termine che l'arco temporale dove noi operiamo. Quindi che cosa succede? Che questo, il mio piano rimane long, quindi nella giornata di ieri, decido di entrare entro, quindi 1,086, come dicevo prima, il mio investimento, in questo caso, è 1,0710 circa. Che cosa significa questo? Significa che se oggi il mercato viene giù pesantemente fino a 1,0710, oggi, domani, chiaramente il mio investimento si annulla, quindi i 250 euro li restituisco al mercato. Dovesse, invece, crearsi una dinamica di prezzo che magari, ecco, va un po' su, puoi rimane qui, puoi fare addirittura qualcosa del genere, potrai anche decidere di spostare questo stop un po' più in alto, su questi livelli, addirittura un pochino più vicino al minimo che si è venuto a creare nella settimana precedente, quindi gestire in maniera attiva lo stop, così come ho fatto già altre volte. E questa, diciamo, quindi è una situazione che effettivamente al momento è confermativa, nel senso che è stata convalidata, quindi torniamo sul settimanale, ancora però, diciamo, non al punto da andare a rompere questo massimo, che è 1,08 e 87 circa, quindi andiamola a vedere, 1,088, ok? Che è il massimo che, una volta rotto, insomma, potrebbe andare a violare poi il massimo della candela di volatilità, quindi questo massimo qui che si è venuto a creare il 16 maggio, e poi magari effettivamente mostrare un movimento più ampio. Quindi, diciamo, posizionamento, anche in questo caso, long, che effettivamente possiamo vedere come nel breve si è venuta a creare questa dinamica via via crescente sul daily e che effettivamente può ancora dare qualcosa. Per quanto riguarda, diciamo, la fine di questo movimento, almeno per quanto riguarda il mio trade, sto valutando, possiamo vederlo, io non ho inserito, come al solito, il mio target, ma molto probabilmente questa è la zona dove potrei andare a prendere profitto, anche se, insomma, anche l'1,10 potrebbe essere, diciamo, il vero livello dove il mercato si sta dirigendo. Nessuno può saperlo. Guardo sempre con interesse le dinamiche che si creano dai minimi, come per esempio la dinamica che si è venuta a creare durante questa settimana, quindi, su questo minimo, ed è la dinamica che ha un po' fatto costruire questo movimento, quindi prendo questo minimo massimo che aveva appunto creato, quindi questo minimo massimo, questo 0-100, aveva fatto il suo ritracciamento profondo, sul suo 161.8 T3 crea un ulteriore ritracciamento profondo e poi riparte, quindi falsa rottura sul T1, falsa rottura del livello poco sopra, anzi, sopra sempre il 161.8 T3, poi movimento che ancora riparte, falsa questo livello di T5, quindi il 261.8, adesso potrebbe avere, diciamo, come piccola fase intermedia questa, ma non c'è confluenza, e poi abbiamo questa confluenza qui, sopra 1.09.50. però, insomma, questo è semplicemente per vedere un po' come si è costruita questa, questa, diciamo, questa dinamica, si potrebbe effettivamente anche vedere questa gamba, che è un po' più ampia, chiaramente con confluenze leggermente diverse, in questo caso, se guardiamo proprio questo movimento, diciamo, la confluenza è con l'1.10. Cambia poco, cambia poco perché comunque sono dinamiche, cioè frattalità, chiaramente, non è, diciamo, non è questo lo scopo, no? In questo video quello di andare a vedere un po' come si ridistribuiscono le estensioni di Fibonacci nelle varie gambe. Quello che, quindi, adesso andrò a fare, chiaramente, è gestire la mia posizione come sempre, non c'è stata ancora la convalida del massimo dell'inside settimanale, che è stata in qualche modo, diciamo, il mio, quindi quella, una compressione di volatilità, che è stata, diciamo, la, possiamo anche definire il mio trigger d'entrata, o meglio, la mia informazione, il trigger d'entrata è stato questo setup qui, che in qualche modo la costruisce, e che possiamo vedere come un bel recupero, no? Quindi, effettivamente, è nel giro di mercoledì, giovedì, venerdì, che si viene a creare il vero movimento, in questo caso, in questa settimana, c'è stato un movimento a ribasso che rompe, appunto, l'1,084, che è stato il, che era il minimo che stavo monitorando la settimana precedente, per un ulteriore, per un fake, e quindi per un ulteriore long, non c'è, non è avvenuto subito, il mercato è andato giù, fino, appunto, a giovedì 23 maggio, andando a testare proprio il massimo del, del venerdì, nel 3 maggio, quindi il massimo, praticamente, che si era venuto a creare, proprio nel, se non sbaglio, sì, proprio, dovrebbe essere questo massimo qui, quindi, 1,081,30, andiamo a vedere, sì, esattamente, quindi, quando c'è stato, effettivamente, l'aumento di volatilità long, e proprio su, su questo livello, il mercato ha fatto, diciamo, base al recupero, quindi nel giro di due giorni, è tornato proprio, quindi da questo massimo, proprio sopra il livello 1,084, che era il minimo che volevo vedere, diciamo, rotto e recuperato con una close. La close che c'è stata, è stata, appunto, quella del venerdì 24 maggio, una close con una candela inside, ma una candela inside, che ha un corpo pieno, e quindi, insieme, no, con le candele precedenti, costruiscono una, una dinamica di prezzo, di continuazione long, che questo è il motivo, quindi, per cui, per cui sono entrato sul, sul mercato. Bene, diciamo, questo, in sintesi, è il mio nuovo posizionamento long su, su euro, di fatto è una continuazione del, del long precedente, però in questo caso, quindi, ho atteso qualche giorno, quindi, anziché andare a pagare l'overnight, che ho visto, almeno nella, nella posizione precedente, mi è costato circa 0,84 euro al giorno, quindi, ho, quindi, incassato il movimento, dopo l'aumento di volatilità, quindi, qui, chiaramente non ho tradato, ho atteso una conferma, e quindi, adesso sono, sono rientrato long sul, sul mercato, e vedremo se il mercato, effettivamente, ha ancora, come dire, ha ancora benzina, per, per andare al rialzo, e quindi, effettivamente, ci sarà questo, questo a lungo. Bene, io, come al solito, spero di, essere riuscito, di trasferirvi del, del valore, attraverso questo video, se c'è stato qualcosa, che non è chiaro, oppure qualcosa vi è piaciuto, invito a commentarlo, sotto, sempre sotto questo, questo video, quindi utilizzare il box dei commenti, se vi è piaciuto, lasciare un mi piace, ma soprattutto, continuare a vedere, i video di questa rubrica, o sul, sul, sul canale di, di Airforex, che è pieno di contenuti, sia dal punto di vista, tecnico, che dal punto di vista, di mentalità e mindset, quindi contenuti, formativi, di tanto valore, che su, potete trovare, tranquillamente, su, sul canale, quindi attraverso, le playlist tecniche, appunto, o dedicate, al, al mindset, eventualmente, farci sapere, nei commenti, cosa, vi interessa, vi interessa di più. Quindi, per oggi è tutto, io vi ringrazio, vi saluto per, anche per oggi, insomma, vi auguro soprattutto, buon trading. Grazie e alla prossima. Ciao.